Su Radiosound Piacenza 24, in questo caldo pomeriggio d'estate, abbiamo al telefono Maddalena Scagnelli. Benvenuta. Grazie, grazie per l'invito. Maddalena è praticamente la direttrice di Appenino Festival, rassegna di musica e cultura, che ovviamente è stata presentata stamattina. Vogliamo raccontare qual è l'obiettivo di questo appuntamento? L'obiettivo è quello di amare, conoscere, frequentare le nostre valli, anche quelle più estreme, le valli piacentine e anche quelle al confine con Genova, Pavia e Alessandria e poi qualche puntata anche nel Parmense. Siamo nell'estremo Appenino, luogo di freschezze, di paesaggi meravigliosi e di una tradizione popolare in esausta. Si parte il 30 luglio, si va avanti fino al 22 settembre e suggeriamo qualche appuntamento ai nostri ascoltatori. Ma allora vorrei suggerire gli eventi nei luoghi magari più particolari. Parto con Castelletto di Vernasca, piccola chiesa senza il tetto e senza una parete, dove ci sarà il più importante gruppo che si occupa di tradizioni antiche e medievali, Micro Logus. Poi sempre per gli eventi più estremi, alla Sella dei Generali, in questo bellissimo pascolo tra Colli, Pradovera, Di Farini e la Valperino, un happening allegro con i cori maschili che cantano le tradizioni popolari e un giovanissimo musicista piacentino che partirà presto per Lucerna. E poi la Val Boreca che è il 18 agosto con strumenti antichi, gli utoli, gli utoli, la spinetta ma anche quelli più popolari come le antiche cornamuse, la piva, il pifero e la fisarmonica. Tanti ingredienti che vanno dalla musica folk e popolare fino alla musica antica e poi anche letteratura e tanto ambiente e tanta natura. E adesso parliamo di quello che è il primo appuntamento, quello del 30 luglio. Apriamo nella parte più vicina alla città, a Rivergaro, in un bellissimo contesto che è quello del Sagrato di Sant'Agata, nel cuore del paese, molto fresco, ci sono i tigli vicino e c'è lo scenario della chiesa di Sant'Agata, con Fabio Rinaudo che è uno dei più importanti musicisti che si occupa di cornamuse e zampogne e ci porterà le cornamuse irlandesi e francesi e con il gruppo Enerbia, quindi partiamo con il gruppo locale. Diamo adesso qualche indicazione ai nostri ascoltatori che volessero scoprire invece il programma, se c'è una pagina ufficiale? Certo, allora possono andare sulla pagina Facebook di Appennino Festival dove potranno vedere adesso il programma ufficiale e poi nei prossimi giorni i singoli eventi con tutte le iniziative collaterali, perché ogni evento spesso ha una camminata, una visita guidata, la segnalazione di un luogo dove poter scoprire anche i sapori delle nostre vallate. Il 30 luglio fino al 22 settembre, un appuntamento imperdibile e programmato anche per Appennino Festival, segna di musica e cultura, ne abbiamo parlato con la direttrice Maddalena Scanielli che è stata con noi su Radio Sound Piacenza 24. Grazie Maddalena. Grazie, vi aspetto tutti. Grazie a tutti.